Carissimi e carissimi, oggi avrete il piacere di vedere un appartamento recentissimo con suo riscaldamento a pavimento e un'aria verde che abbraccia tutta la casa. Fantastico per te, ma prima sigla e poi entriamo! Eccomi qui, sono in Viale Marconi al numero 9, come potete vedere abbiamo un giardino condominiale meraviglioso, un doppio accesso sia sul viale che nel retro dove i posti auto per te e i tuoi amici sono tanti funzionali e comodi. Adesso entriamo in questo spaziosissimo soggiorno, abbiamo il videocitofolo, l'antifurto e delle bellissime vetrate a scorrere e da qui si intravede una meravigliosa funzionale cucina, anche lei dotata di una porta scorrevole che dà su un meraviglioso portico, ovunque il nostro riscaldamento è a pavimento. Guardate quanto è magico questo angolo che si estende per tutta la lunghezza della casa, su questo fronte. Sono circa le quattro e mezza e il sole bacia ancora bene questo giardino, infatti avremo il sole fino al tramonto. Comodo e oltremodo comodo qui abbiamo un capiente ripostiglio che un domani potrebbe addirittura diventare il secondo ingresso, sì perché questa unità abitativa era costituita da due bilocali completamente indipendenti, quindi un domani quando la casa sarà troppo grande, magari ti trasferirai a Tenerife, potrai ottimizzare il badagno dividendo le due unità abitativa. Guardate quanto è grande quella che è la camera dei ragazzi, davvero dimensioni importanti e stupenda l'uscita sull'ulteriore zona verde. Prima di entrare in bagno, nel disimpegno, come potete notare, abbiamo il funzionale angolo lavanderia, un bagno spazioso già dotato chiaramente di sanitari sospesi, il suo scalda salvietta e una finestra arrivalda. Lasciamoci alle spalle questa zona notte per andare totalmente dalla parte opposta, quindi tanta riservatezza e privacy nella zona dell'altra camera da letto. Sempre nell'anticamera un angolo che funge da ripostiglio e qui, come si nota, le dimensioni sono valevoli. Funzionalissimo, anche qua, come abbiamo già accennato, la porta finestra che ci conduce fuori nel verde. E per voi, chiamate i bagni di grande personalità, tramite questa porta a scomparsa andiamo in questo spettacolare bagno color antracite con il suo mosaico della bisazza. È meraviglioso! Ricapitolando, avete avuto il piacere di vedere un trilocale con due servizi, tutte e due con finestra, ripostiglio, box singolo e due cantine. È fantastico il giardino esterno che abbraccia completamente tutta la casa e inoltre ha un portico riservato dove poter fare i tuoi pranzi, colazioni e cene in tutta intimità. Il riscaldamento è a pavimento, abbiamo anche l'antifurto e se un domani avrai la necessità addirittura di dividere le due unità, avrai due ingressi che sono totalmente indipendenti e potrai quindi ottimizzare il tuo investimento realizzando due bilocali a norma di legge. Quindi un appartamento davvero eclettico, interessante su tanti profili ma soprattutto bello, comodo, recente da poter vivere immediatamente perché è già libero per te. Ti aspetto per venire a vederlo e a comprarlo. Ricorda quando a gusto è facile vendere, sicuro acquistare. Felice casa a voi tutti!